Ciao a tutti, allora di nuovo voglio portare un formato nuovo, 3 minuti per spiegare il grafico di Bitcoin. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale Bitcoin FantaCripto perché per me è molto importante che voi lo facciate e commentiate anche i miei video per capire un attimo se quello che sto facendo può esservi utile o meno. Andiamo subito al grafico, che cosa possiamo notare? Se non l'avete ancora fatto guardate i video dove spiego un pochino la struttura. Ora ne uscirà uno in dettaglio, lo sto preparando, mi manca pochissimo, lo sto montando. Allora che cosa possiamo vedere? Qui siamo su H4, vediamo il breakout del precedente minimo, si è creato un nuovo minimo e ora siamo andati a fare la chiusura della struttura, quindi graficamente in questo momento potremmo anche trovarci pronti per fare un'inversione di nuovo. Quindi io che cosa posso dire? Se noi andassimo a analizzare un pochino il trend, scendiamo sull'1H, che cosa possiamo vedere? Sempre a livello strutturale, da quando abbiamo fatto il breakout del nuovo minimo, tutte le volte che stiamo provando ad approcciare con nuovi massimi, la risposta del prezzo è molto debole, è molto debole e qui addirittura stiamo un pochino lateralizzando. Quindi cosa possiamo dire? C'è forza in Bitcoin? No. Per il momento io non vedo questa forza, secondo me rimane per il momento un asset molto speculativo e vista la situazione generale, visto come vanno i mercati globali, secondo me gli investitori hanno un pochino paura a spostare il proprio capitale. Perché dico questo? Perché è vero che noi facciamo analisi tecnica e io per il mio modo di operare uso moltissimo la price action, ma quello che posso dirvi è, come dicevo anche nel video fatto insieme a Mauri, se non l'avete visto, ci sono i link in descrizione nei precedenti video, sono i capitali che contano, quindi se stanno uscendo capitali lo faranno, lo faranno a prescindere dall'analisi tecnica, da qualsiasi pattern voi tradiate, da qualsiasi candela vedrete che possa darvi un segnale. Quindi mi raccomando, capiamo un attimo, perché ora se adesso dovessi dire Bitcoin a forza, io risponderei assolutamente no. Potrei aspettarmi un qualcosa di rottura a breakout per andare a chiudere i livelli strutturali a questa zona, ma secondo me rimaniamo molto deboli, quindi secondo il mio parere potremmo scendere in zona 35, potremmo riscenderci diciamo in questo livello qui. Quindi mi raccomando, mi raccomando, prendete sempre l'analisi, la price action come un modo per cercare di capire dove ci troviamo a mercato, ma ovviamente prima di attuare la vostra strategia pensateci bene perché dovete guardare il contesto macro. Quindi vediamo un attimo come si comporta in queste prossime ore Bitcoin e poi vedremo se la nostra strategia è ancora valida oppure dovremmo crearne una nuova. Va bene? Io per il momento vi lascio perché volevo fare un rapidissimo update oggi e mi fermo qui. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci sentiamo presto. Salve a tutti e buona giornata. Grazie.